Che vuoi? Barbara D'Urso stupisce a domenica live con un lapsus, caetto invece di cazzotto La frase osè della D'Urso che domenica pomeriggio l'ha resa virale sui social Ieri, domenica 2 dicembre, una delle presentatrici più famose della televisione italiana ha stupito tutti lasciandosi sfuggire in diretta un termine non molto adatto ad un programma televisivo pomeridiano Stiamo parlando di Barbara D'Urso, che nel corso dell'ultima puntata di domenica live ha commesso una piccola gaffe nello spazio dedicato alla vicenda riguardante De Narove e i presunti maltrattamenti alla sua ex moglie Un piccolo lapsus che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, facendo diventare immediatamente virale il video contenente la gaffe osè della conduttrice di Mediaset La gaffe indiretta di Barbara D'Urso Nel dettaglio, vi segnaliamo che l'errore commesso da Barbara ieri pomeriggio è strettamente legato alla pronuncia di una frase ben precisa La conduttrice infatti ha pronunciato erroneamente la frase il famoso cazzotto, trasformandola in il famoso caetto Va detto comunque che l'errore della D'Urso è durato soltanto qualche frazione di secondo, in quanto la conduttrice si è resa conto immediatamente di aver detto qualcosa di sbagliato e ha chiesto scusa a tutti Nonostante questo sono in molti a pensare che le scuse della D'Urso non serviranno ad impedire a Striscia la notizia di inserire la sua gaffe nella classifica dei nuovi mostri Le interviste di Barbara Domenica Live e Pomeriggio 5 Va detto comunque che Barbara non è nuova a questo genere di errori, infatti, solo poco tempo fa si era resa protagonista di un altro discutibile episodio La D'Urso qualche settimana fa ha mostrato per sbaglio al pubblico le proprie mutandine mentre si sistemava il vestito per sedersi Inoltre il suo show sta diventando sempre più famoso per le forti discussioni che avvengono molto spesso fra gli ospiti e gli opinionisti Una delle più celebri è stata quella fra Carina Cascella e Lorenzo Crespi o quella fra Antonio Zechila e l'ex marito di Tina Cipollari, video, Kiko Nalli Ovviamente a Pomeriggio 5 e Domenica Live non ci sono soltanto liti e discussioni, ma anche tanti approfondimenti di cronaca e tante interessanti interviste fatte ai più celebri personaggi della televisione italiana e dei reality Nell'ultima puntata di Domenica Live, infatti, Barbara ha intervistato in studio gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3, Giulia Provedi, Jane Alexander ed Elia Fongaro e l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, video, Paola Caruso